eccomi qua altro giornata altro pacco questo è un pacco fornito di guanti ovviamente questo è un pacco da direttamente da mech shopping che cosa ci sarà all'interno chi lo sarà vediamo un po come si apre innanzitutto si apre così da una parte è già aperto e non mi riassicura molto poi la prendiamo anche di qua e però stendenzialmente dovrebbe essere chiuso vediamo un po primo pacco esterno aperto adesso che cosa facciamo togliamo i guanti i guanti li togliamo da un lato così guarda dall'altro in modo per togliere i guanti si deve entrare con le due dita così esatto e si tirano via così 1 e 1 2 e lo petto dal basso le scatole sono ben due da questo punto di vista apriamo le prime direi non male non male assolutamente sono numero 39 in questo caso la finitura sembra buona anche il taco ha un suo perché vediamo che vi faccio vedere meglio poi tanto sentite rumore ma il mio cane che sta mangiando altro pacchettino qui siamo top siamo molto leggeri sembrano anche traspiranti vera guardate hanno un loro sfide quindi 1 ovviamente non sono per me ci mancherebbe e 2 eccole qua vediamo la suola solo di uno molto trendy mi piacciono questi con questo fiocchettino nero ha un suo perché sembrano fatti molto bene robusti sono classicamente classici da donna ovviamente la parte del piede molto rastremata hanno un drop anche se nei sandari non è così importante come nelle scarpe insomma molto belli li andiamo a provare ovviamente non li provo io ma qualcun altro ciao grazie